Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con una voce da Zoldo e Zopè, giornale delle sette parrocchie di Zoldo e della parrocchia di Zopè, che fanno l'esperienza di unica comunità. In prima di copertina la riflessione del parroco Don Roberto de Nardin dal titolo Tempo di crisi, tempo di scelte. Prende lo spunto dalle fondamenta della chiesa di San Floriano, qui è riprodotta la cripta con un grande e robusto pilastro centrale che sostiene mezza chiesa. Tempo di crisi, si dice Don Roberto, ma la crisi significa anche tempo di scelta perché la parola indica scelta e allora pone ai lettori questa domanda dove porre il nostro fondamento, quindi quale scelta globale di vita e di valori fare e propone la croce di Cristo, il suo messaggio come centrale e riporta il motto dei certosini, la croce rimane fissa mentre il mondo cambia. La vita della chiesa, il sinodo della chiesa universale, evento ostile, ecco queste due parole, evento sarebbe un fatto che succede, stile è un modo di camminare insieme che dovrebbe caratterizzare, già in parte lo era ma molto di più in questo periodo, la chiesa a tutti i livelli, cammino sinodale delle chiese in Italia. Viene poi dato conto della vita della comunità, stare insieme, il 2 marzo si è ripreso il catechismo dopo il blocco della pandemia, è celebrato a Fusine il patrono San Nicolò con l'aspetto religioso e anche folcloristico come tradizione, a Pieve l'Epifania, la giornata della vita celebrata a Fusine, qui abbiamo il gruppo dei bambini che hanno partecipato, il 2 febbraio la Candelora, un annuncio importante costituito il nuovo consiglio parrocchiale per gli affari economici unitario, mentre prima ogni singola parrocchia aveva il suo consiglio parrocchiale per gli affari economici, adesso se ne è creato uno unitario e l'impegno di questo consiglio viene riassunto, tra l'altro richiamato da 23 chiese di cui tener conto, di cui gli 8 parrocchiali, 5 espensionati e 8 canoniche, quindi anche solo la conservazione dei beni diventa per questo consiglio un impegno significativo e importante. Celebriamo la Pasqua a nostra misura, è stato preparato un cammino per i bambini, pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna delle Grazie in alto a Gordino, auguri a Letizia, custode della pieva e della dollerata, Mareson lavori in pista, è necessario, si parlava prima delle tante chiese, qui abbiamo la chiese di Mareson che chiede interventi urgenti per la sua conservazione. Una bella lettera da Suora Edvige Karokai, religiosa di Salesiana, originaria della nostra valle, della valle di Zoldo, che scrive dall'Albania. Carissimi amici della valle di Zoldo, Suora professa nel 1998 in servizio in Albania, ora in un villaggio molto povero e bisognoso, da dove serve la comunità albanese con l'entusiasmo e lo spirito di ogni religiosa. Un inserto ragazzi con alcuni racconti, rubrica culturale, il concerto di Natale del coro giovani, l'associazione Monde V che presenta le sue attività, la festa di San Giuseppe celebrata a Brusadas, una mostra fotografica, poi le associazioni, Calcio Val Zoldano è una realtà che rinasce, stagione da incorniciare per l'occhi, specie giovanile, stagione del biatrone del fondo, tutte attività legate agli sport invernali. Poi l'atletica Zoldo, sport a tutto tondo. Proloco Zoldo Alto, tutti all'opera per la Transpelmo 2022 che sarà celebrata nel settembre del 22. Un'attenzione ai vigili del fuoco volontari di Zoldo, sempre presenti oggi come ieri una forza di servizio sociale importante, come anche i volontari della Croce Verde. l'associazione Bellunesi Volontari di Sago e sezione di forno di Zoldo e Zopè, sempre attiva. Il giornale chiude poi con l'anagrafe delle varie parrocchie i defunti, i battesimi per presentare volti noti ai lettori del giornale. Abbiamo visto una voce da Zoldo e Zopè, giornale interparrocchiale delle parrocchie di Zoldo e di Zopè. Bellunesi nel mondo, mensile dell'associazione Bellunesi nel mondo, in prima di copertina viene presentato Funes, un emigrante che ritorna e un borgo che rinasce. L'impegno di far rinascere questo borgo che è stato affidato ed è stato voluto da un emigrante che ritorna, Giglio Munaro, che desidera dare al suo paese il villaggio che lo ha visto nascere. Quando è nato vi abitavano 37 persone, poi il numero è andato sottigliando, deserto nel 2005. Lui poi ha voluto insieme a Vincenzo Munaro, il pittore, suo fratello, anche dare un tocco artistico e ricreare questo borgo che rinasce e vuole rinascere anche come accoglienza. Dopo una vita da parte di Giglio Munaro, vissuto come emigrante, impegnato e riuscito anche nelle sue attività. Le giornate di maggio, riflessione del direttore Dino Brida, presenta le varie feste che si celebrano a maggio e si chiede, le possiamo anche ricordare, festa dei lavoratori, giornata mondiale della libertà di stampa, festa della mamma, giornata internazionale della famiglia, giornata internazionale delle diversità culturali per il dialogo e lo sviluppo, giornata internazionale della biodiversità, giornata internazionale dei pacificatori. Ecco, cosa vuol dire tutta questa serie di feste? È importante che diventi anche occasione culturale e di istruzione in modo che non siano solo parole vuote, ma che portino anche risultati nella vita della società e delle persone e delle famiglie. L'immagine a tutta pagina presenta la statua offerta dallo scultore Baliana a Canale d'Agordo, la bambina che è stata guarita per intercessione di Papa Luciani a Canale d'Agordo, la bambina argentina e che è stato un po' anche il motivo per il quale il 4 settembre sarà beatificato. Sanda Noemi Dal Ponte, una giovane emigrante di genitori e noni paterni bellunesi di Sitran, immigrati in Argentina nel 1934, manifesta il suo percorso di insegnante affezionata all'italiano, all'estero e il suo impegno nella zona dell'Argentina di unire e creare legami stretti tra i discendenti bellunesi nel mondo. Le votazioni del 12 giugno ne abbiamo parlato, il Consiglio generale degli italiani all'estero, 43 membri per il nuovo mandato delle varie parti del mondo, la ricerca di soldi per le strade delle province montane. Viene poi dato l'annuncio e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della situazione bellunesi nel mondo che si realizzerà sabato prossimo. Italia-Ucraina, un rapporto che radici lontano, viene analizzato il rapporto che c'era tra l'Italia e l'Ucraina. All'inizio del 21 c'erano presenti in Italia 236.000, il 5% degli stranieri presenti in Italia, una presenza significativa anche per il servizio alle persone, 65% della tipologia di chi serve in Italia venendo dall'Ucraina, soprattutto donne. Anche le rimesse di queste emigranti, di questi e di queste emigranti, sono una cosa importante per il paese di origine. Il problema di Zoldo, tu per tu come sindaco di Val di Zoldo, per trattare quello che è il problema della strada, che ha creato grossi problemi, soprattutto nei momenti di criticità. Un richiamo al problema del treno delle Dolomiti, a che punto siamo? Ecco, sembra che la cosa si stia un po' fermando, anche se rimane sempre questo sogno di realizzare questo nuovo collegamento tra Calazzo e Cortina. Cambiamento climatico e nuovi stili, il Giro d'Italia parla della tappa che tutti hanno seguito, Papa Luciano inaugurata la Casa Natale dove è stata messa quella statua che abbiamo visto l'artista baliana che ha voluto creare questa immagine, funessa abbiamo già detto, foto del passato, la pace di una conquista, una riflessione. Abbiamo visto bellunesi nel mondo, mensile dell'associazione bellunesi nel mondo. Passiamo a in marcia nel segno della tradizione periodico trimestrale della sezione ana di Belluno. In prima di copertina i nostri monumenti di pace, con al centro il medagliere, con le molte medaglie ricevute dagli alpini con il loro impegno e il loro servizio. La bottega della coscienza è sempre aperta, ecco la riflessione sui 59 conflitti coinvolgenti decine di nazioni, milioni di militari civili e civili. È un problema che richiama un po' alla coscienza delle persone che qualche volta sembra essere un po' congelata e quindi bisogna aprire la coscienza e cogliere l'importanza di questa situazione. Conclude il direttore Dino Brida, come fa ripartire quell'orologio della coscienza? Riparando la nostra intelligenza ammaccata nella bottega di un'artigiana che si chiama coscienza, è sempre aperta, 24 ore su 24. Riscopriamo la bellezza dello stare insieme, l'assemblea del 6 marzo, coordinata dal consigliere nazionale Carlo Balestra, il punto della situazione dei 31 gruppi, sono 44, erano presenti 31, per celebrare anche i 100 anni della sezione. Viene presentata, è stato presentato il grande impegno della protezione civile, 3.980 giornate di lavoro, di cui 2.125 a favore della sanità pubblica, volontari veramente belli e significativi. Anche lo sport, pur con qualche blocco, ha potuto continuare, sono stati premiati quelli che sono chiamati i soci di lungo corso, un gruppo di persone che da decenni vive l'esperienza dei Gruppiana. Ucraina Chiama Belluno risponde, viene dato conto della raccolta di materiale che è stato portato, con diverse iniziative, sempre organizzate dagli alpini ai confini con l'Ucraina. Nel ricordo del sacrificio alpino, una giornata nazionale per riflettere, fissata il 26 gennaio, giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, una legge la resa definitiva. Qualcuno sottolinea, il giornale stesso ne riporta, lo spunto, sarebbe stato più significativo celebrarla il 15 ottobre, perché nel 1872 è stato fondato il corpo degli alpini, ma si è fatta questa scelta da qualcuno messa in discussione, perché vicina anche alla giornata della memoria il 27. Abbiamo poi cronaca di sport e infine la pagina dedicata al raduno della brigata Cadore, che sta avvenendo in questi giorni, avverrà venerdì, sabato e domenica, venerdì un concerto di cori, sabato altri eventi molto importanti, con delle mostre per avvicinare i cittadini al mondo degli alpini, la sera la messa in cattedrale, in piazza Duomo, prima anche il carosello della banda degli alpini. E poi domenica, 19 giugno, lo sfilamento degli alpini da piazzale Resistenza fino a piazza dei Martiri e poi fino alla conclusione, alla fine della discesa da San Biagio. Ecco, abbiamo visto altre cronache poi da ogni gruppo che presenta con documentazione fotografica la sua attività. Abbiamo visto in marcia nel segno della tradizione periodico trimestrale della sezione ANA di Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.